Siamo intervenuti sul rostro numero 3 e numero 4. Abbiamo visto che il rostro numero 3 aveva delle grosse problematiche a livello di struttura. Il rostro 3 aveva due pareti, una interna e una esterna per ogni lato. Gli mancavano i cantonali. Una volta che abbiamo aperto questa parte qui del cantonale siamo resti conto che una porzione di queste murature erano in rotazione e già si stavano staccando. Non termineranno come previsto entro fine ottobre i lavori di restauro e consolidamento dei rostri di Ponte Buriano, l'opera romanica costruita attorno al 1200 che fa da sfondo al celebre dipinto La Gioconda di Leonardo. La conclusione dei lavori che avevano preso avvio lo scorso 4 settembre slitta infatti al 30 novembre a causa dello stato in cui versa uno dei rostri. La riapertura del ponte invece è prevista per il 4 dicembre. Questo cantiere ci è servito, è stato fondamentale per capire esattamente come era strutturato il ponte. Abbiamo dovuto fare un lavoro certosino di ricuscitura dei cantonali, abbiamo attualmente già ripulito internamente tutto il rostro, abbiamo consolidato ben la parte interna, abbiamo già ricostruito in questa zona qui dei cantonali interni in muratura. Adesso stiamo ricostruendo i cantonali esterni. La proroga è dovuta al fatto che ci stanno costruendo pietra per pietra tutti gli elementi da riposizionare nei cantonali. Quella attuale è la prima fase dell'intervento di restauro del ponte, la seconda, quella finale, è prevista nel periodo compreso tra maggio e settembre 2018. Noi dobbiamo intervenire su 14 rostri e oggi siamo intervenuti solo su due rostri. I lavori sono previsti nella durata di circa 322 giorni, abbiamo diviso in due annolità.